ciao a tutti il video di quest'oggi si intitola in questo modo assumete il controllo della personalità un titolo un po ambiguo in realtà che però sarà chiarito nel corso del video il titolo stesso è incluso in una citazione contenuta nel post che ho scritto e pubblicato nei miei canali social i quali consistono almeno per il momento nel gruppo facebook il cammino del mago nella pagina facebook fosco del nero e nel canale tegra intitolato anch'esso fosco del nero c'è poi la cosa più importante che è la newsletter alla quale vi invito a iscrivervi già che il sistema più sicuro in realtà l'unico sistema sicuro per rimanere in contatto con il lavoro di un autore al di là di eventuali attività dei social censura cancellazioni penalizzazioni sparizioni improvvise e via discorrendo andiamo a leggere il post e poi a commentarlo assumete il controllo della vostra personalità e fate di essa una maschera come le immagini magiche nel tempio di atlantide trasformate la vostra personalità in uno strumento d'espressione modellatele forgiatela lavorate la finché diventa la pietra perfetta il perfetto strumento ma non potrà essere il vostro strumento finché la coscienza è centrata su sentimenti e desideri imparate a ignorare i sentimenti vivete nel vostro io interiore imparate a sfruttare i vostri desideri affinché essi vi conducano sul sentiero come robuste bestie da soma e per quanto riguarda le sensazioni del vostro corpo imparate a padroneggiare l'arte del rilassamento così da ridurle al minimo e liberare la coscienza per la più alta contemplazione così consigliava a suo tempo di un fortune si trattava per l'appunto di una citazione sono poche righe non facili da digerire ma in esse c'è il lavoro di una vita e anzi il lavoro di più vite l'autrice gallese in breve invitava i suoi discenti ad acquisire controllo sulla propria personalità in senso letterale controllo sul corpo fisico controllo sulle emozioni controllo su pensieri e desideri un controllo capace di convertirli in bestie da soma ossia inutili servitori da utilizzare lungo la scala evolutiva piuttosto che il contrario ossia farsene schiavizzare che il modo in cui vive la gran parte dell'umanità schiava dei sensi fisici schiava delle emozioni basse schiava dei pensieri incontrollati la personalità all'esterno rimarrà ma sarà ridotta ora a rango di maschera di ruolo teatrale mentre dentro l'osservatore mentre dentro l'osservatore lavora al fine di fare emergere sempre di più la coscienza in tal senso potrebbero persino aversi più maschere da usare a seconda dell'occasione secondo maggiore o minore efficacia come si era allenati a fare nelle antiche scuole iniziatiche occorre mettere tutto al servizio del percorso interiore persino ciò che all'esterno può apparire ancora come ego personalità ma che in realtà è nel mentre divenuto uno strumento evolutivo per sé e per gli altri qua finiva l'articolo pubblicato sui social ci sono parecchi elementi il punto centrale è quello che caldeggiava l'esoterista britannica ossia il controllo e la padronanza sui propri corpi anziché la schiavitù cosa sia meglio tra padronanza e schiavitù è abbastanza semplice da individuare come concetto peccato che quasi nessuno abbia realizzato tale padronanza tale controllo e anzi peccato e che più nemmeno ci provino perché non sanno che c'è da acquisire tale maestria su che cosa su tutti i corpi che compongono la personalità terrena il corpo fisico il livello fisico il livello emotivo il livello mentale sono questi i campi di battaglia dell'estrumana diciamo così tra l'altro detto per inciso questi sono i campi di battaglia interiori individuali che sommati agli altri campi di battaglia individuali alle altre guerre interiori individuali generano poi per riflesso le guerre esteriori del mondo fenomenico ma non è questo l'argomento di questo posto quali sono gli strumenti di schiavitù sui quali occorre iniziare a porre l'attenzione per poi conquistare una certa maestria sono i piaceri sensoriali da un lato le emozioni basse i desideri emotivi dall'altro e pensieri soprattutto naturalmente pensieri incontrollati da un altro lato ancora se non si acquisisce dominio su questi tre livelli i livelli in questione risulteranno zone oscure zone tenebrose e quindi mezzi di asservimento strumenti di schiavitù zone di inconsapevolezza possiamo utilizzare differenti immagini differenti termini per descrivere la medesima situazione la stessa cosa se rimasta nelle tenebre nell'oscurità dell'inconsapevolezza conduce la schiavitù se viceversa è stata è stata illuminata dalla luce dell'osservazione e della coscienza conduce viceversa la liberazione propria e degli altri perché entrambe le cose entrambe le direzioni sono contagiosa nel momento in cui si acquisisce padronanza su questi livelli la personalità per così dire è stata nel senso che la persona a questo punto è maggiormente se non totalmente identificata con l'anima piuttosto che con l'ego a questo punto la personalità può definire ciò che è il termine persona dal punto di vista etimologico il termine persona deriva dal greco significa maschera rappresentava le maschere che venivano per l'appunto utilizzate nel teatro greco è un termine molto bello che indica che noi stessi siamo maschere ognuno utilizza la sua maschera tanto che le maschere sono molte ciò non di meno si tratta di maschere anzi noi sappiamo benissimo che ogni individuo possiede differenti maschere adattata secondo dei contesti sociali che va a vivere di volta in volta c'è la maschera del figlio del genitore del parente collaborare dello sportivo del professionista lavoratore dell'amico qual è il punto che caldeggia di un fortune il punto è non essere più schiavo di queste maschere che sono state costruite cristallizzate in qualche modo e che nell'inconsapevolezza procedono in automatico seconda azione e reazione ciò che lei consiglia diventare padrono di queste maschere trasformarle da strumenti di inconsapevolezza a strumenti di consapevolezza a questo punto non saranno più mezzi di addormentamento ma mezzi di risveglio in antichità nella storia precedente la storia nelle antiche scuole iniziatiche queste maschere personalità venivano assegnate ai discenti agli studenti in modo che essi sviluppassero le qualità utili a portare avanti una certa maschera sociale assegnata a ciascun individuo studente in relazione alle qualità animiche che egli doveva sviluppare con ciò si indirizzava gli studenti a vivere proprio la vita in un certo modo a svolgere una certa professione a presentarsi alle persone in un certo modo almeno per un certo lasso di tempo finito quel compito cioè ritenuta acquisita la qualità o le qualità che andavano addestrate allo studente veniva tolta quella maschera diciamo così e magari gliene veniva assegnata un'altra e le maschere potevano essere anche maschere difficili e pesanti da portare la maschera del guerriero dell'artista della prostituta questi ruoli sociali sono penosi cioè sono forieri di drammi a livello egoico se le si vive a livello egoico per l'appunto se però si acquisisce via via coscienza cioè se si illumina man mano tutto ciò che essi comportano se si rende conosciuto lo sconosciuto allora non c'è più dramma ma anzi c'è apprendimento evolutivo vi faccio notare peraltro che la padronanza su tali maschere è vantaggiosa evolutivamente parlando non solo per se stessi ma anche per gli altri perché nel momento in cui voi siete diventati padroni diciamo di due tre quattro maschere cioè siete capaci di toglierle e metterle a vostro piacimento vivendo una certa maschera in modo integro, coerente sarete anche capaci di essere usili spiritualmente parlando a chi avete innanzi nel momento in cui dal vostro livello di maestria o comunque di maggior consapevolezza siete in grado di discernere cosa avete davanti chi e cosa avete davanti che energia avete davanti e dunque che tipo di esperienza potrebbe servire o meno a una certa persona quindi potreste essere diciamo che svolgete una funzione di insegnante nei confronti di qualcuno rimaniamo in questa nicchia quella dell'insegnante potreste essere un insegnante dolce che porge la carota ma potreste essere anche il maestro zen cattivo che porge il bastone potreste essere un insegnante che allena la disciplina ma anche quello che allena la compassione e la dolcezza ma non sarete in grado di comprendere di quali energie ha bisogno lo studente che avete davanti a voi se non avete un ruolo da insegnante un ruolo animico coscienziale da insegnante e non potrete avere questo ruolo se non avete già padroneggiato già padroneggiato le varie maschere della personalità cioè le energie basse le vibrazioni di un certo tipo e tutte le loro ancelle ecco così che questa padronanza quella di cui parlava di un fortune è utile non solo per chi se ne fa portavoce ma anche per tutti coloro che gli intorno soprattutto va da sé le persone che vivono a stretto contatto con qualcuno che è coscienzialmente un po' più avanti e che in ragione di questo avanzamento è divenuto capace di togliere su una maschera e metterne un'altra magari sulle prime non proprio a piacimento ma sulle seconde e sulle terze in modo via via più sciolto più fluido e più consapevole bene il video termina qua vi ringrazio per l'attenzione vi invito ancora una volta a iscrivervi alla newsletter è la cosa più importante se apprezzate il mio lavoro potete naturalmente iscrivervi a questo canale youtube ma la newsletter è l'elemento decisivo per rimanere aggiornati con la mia attività di autore ma questo però anche per gli altri autori cioè nel mio caso articoli scritti attività sui social video registrati libri pubblicati eventuali diretti video conferenze o seminari ci sarà ancora grazie per essere stati qua con me buone cose per tutto quanto